Agreon è il partner strategico per fare ricerca in Piemonte sull'agroalimentare più in generale ma ovviamente specificatamente per l'agricoltura. Noi come Politecnico abbiamo trovato già da anni veramente il partner che ci ha permesso di imparare in primis perché da loro abbiamo avuto sempre una collaborazione diretta e franca e molto efficace per andare insieme a trovare le necessità e noi come tecnologi, come sviluppatori di tecnologia siamo coloro che abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per creare anche soluzioni a diversi livelli perché la ricerca va dalla ricerca più applicata fino alla ricerca più di base. Sicuramente il territorio è interessato in primis alla ricerca applicata quindi con loro l'interazione ci ha portato a presentare e anche ad avere successo in progetti che hanno portato e stanno portando applicazioni dirette ma contestualmente abbiamo anche trovato in loro le competenze e anche il desiderio di fare con noi cose un po' più innovative quindi legate proprio ad applicazioni che arriveranno più avanti che però saranno quelle a mio parere che renderanno estremamente più competitive le aziende, i produttori del Piemonte in primis.